Ad intervenire sui buoni mensa nelle scuole comunali in maniera anche dura, forse anche dovuta a questo punto. Cristina Maloni, che cosa si chiede adesso dopo questa ennesima riunione, dopo questa commissione? Io non contesto le azioni di recupero credito da parte del Comune, ma contesto assolutamente, categoricamente e in ogni modo, l'affissione di quel cartello in cui sono stati inseriti dei minori, che a far data dal 29 ottobre non avrebbero più soffrito del servizio mensa per le colpe dei genitori. Assolutamente un fatto gravissimo che resterà nella storia della nostra città. A Teramo mai nessun bambino non ha mangiato nelle mense pubbliche, non è mai successo e non succederà mai. Questo però era l'annuncio per cui poi si è alzato il polverone. Ma di fatto hanno mangiato o no questi bambini? Cioè il polverone perché si è alzato? Perché qualche iena, qualche sciacallo sul web si è divertito a dire che i bambini non mangiavano? Non è vero, i bambini hanno mangiato tutti. Questa cosa potrebbe anche essere vista così come lo è stata, essere un passo indietro da parte della maggioranza? No, io non parlo di passi indietro, io parlo di rispetto delle regole. Perché se ti fanno la multa, tu la multa la paghi, se tu prendi l'autobus alla metropolitana, a Roma o a Milano, la paghi. Questi sono servizi a domanda individuale che anche con un minimo di partecipazione economica vanno pagati dalle famiglie. L'assessore Romanelli ha risposto che non è un modo di fare opposizione. Certo non è un modo di fare opposizione, perché finora c'è stata sempre un'opposizione amica. E l'opposizione amica ci può essere quando la giunta e la maggioranza si comporta adeguatamente e secondo i termini di legge. Altrimenti l'opposizione deve essere necessariamente durissima, come sarà la mia sempre.